Ritrovato il sorriso al Romeo Neri contro Limolesi, le Rimini torna in Emilia per affrontare la Fiorenzuola, sesto della classe con 28 punti. I biancorossi sono a quota 25. I rossoneri nell'ultimo turno sono stati corsari sul campo della Torres. Mister Gaburro deve ancora rinunciare a Zaccagno, a Lievi, Gabbianelli, Rosso e Mencagli. Difesa a quattro per i biancorossi. In attacco giocano Piscitella, Santini e Sereni. Al quarto, retropassaggio sbagliato di Sussi. Si intromette Sereni, che salta a battagliola, ma se lunga il pallone, poi cerca Santini, che viene anticipato da Bondioli. Al quinto, brecche di pase e conclusione da fuori area di Santini, la sfera a Sibila lato. Al diciassettesimo, la rasoiata da fuori area di Mastroianni è deviata in angolo da Galeotti. Al ventiduesimo, scatta il contropiede dei biancorossi. Pasa per Santini, che subisce fallo, ma si prosegue per il vantaggio. Del carro allarga per Sereni, che lo serve nuovamente in area. Il centrocampista anticipa Battagliola, che lo tocca per il direttore di gara, Lovison di Padova, si può proseguire. Al ventisettesimo, Piscitella vede la sovrapposizione di Averi e lo serve. Tiro cross e respinto da Battagliola. Rossetti di testa per Pasa, la cui battuta è deviata in corner da Di Gesù. Al trentaduesimo, recupera il servizio in verticale di Pasa per Santini, che controlla e tenta il diagonale. Battagliola vola e gli nega il gol. Al trentaseiesimo, Pannelli si fa soffiare il pallone da Stronati. Poi è bravo a rimontarlo e Averi chiude su Mastroianni. Al trentasettesimo, ripartenza di Biancorossi. Crosse di Sereni. Bondiola anticipa Santini. Piscitella tenta la soluzione a giro. Pallone fuori di poco. Al quarto della ripresa, Piscitella serve Pasa al limite dell'area. Il suo tiro si trasforma in un assist per del carro, che scaraventa in rete, ma in posizione irregolare. Al sedicesimo, Piscitella per Pasa, che allarga sinistra per Averi. Il numero tre sposta il pallone, poi lo pennella sulla testa di del carro per il vantaggio biancorosso. Quarto sigilo in campionato per il centrocampista ex Ancona. Al dicesettesimo, Sartor allarga per Di Gesù, il cui tirocross è smanacciato da Galeotti. Al ventunesimo, l'intervento di Tofanari su Sartor è falloso. Batte la punizione da posizione angolata allo stesso Sartore. Diviazione aerea di Potop. Galeotti respinge, ma stronati e pronto al tapin. 1-1 al ventiduesimo. Al ventiseiesimo, la punizione di Sereni è indirizzata sotto l'incrocio. Battaglio la Cerrive respinge. Al trentacinquesimo, il tiro di Tanasa, che riprende la respinta corte della difesa di casa, è deviato in angolo da Currarino. Al quarantatresimo, secondo corner per il Fiorenzuola, contro i dodici del Rimini. Batte Morello, Frisona svetta di testa e mette in rete il 2-1. Al quarantottesimo, cross di Panelli e colpo di testa di Santini, sfera tra le braccia del portiere rosso-nero. Finisce 2-1 per il Fiorenzuola, che sa la quota 31 in classifica. Il Rimini resta 25. E sabato prossimo, al Romeo Neri, arriva l'Ancona. Eccoci qua, abbiamo visto quello che è accaduto, quello che non ci ha raccontato. Il servizio, dove ci sono solo le azioni, è il dominio territoriale netto da parte del Rimini, che però ha avuto i suoi demeriti e sono stati quelli, innanzitutto, di non concretizzarlo, perché dopo una partita così bisogna segnare almeno 4 gol e non uno solo. E poi anche l'altro grosso limite è stato quello di aver subito due gol su palla inattiva, altri due gol su palla inattiva. Adesso non succedeva da qualche settimana, però è tornato un vecchio tallone d'Achille dell'inizio della stagione. Ma con chi ne parleremo? Con il nostro opinionista Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Buonasera Cesare. Il nostro opinionista Davide Bagietta Baio. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Baio. In collegamento la nostra Donatella Filippi. Buonasera Donatella. Buonasera a tutti. Allora, poi parleremo anche perché qualcuno mi ha chiesto, anche qualche tifoso, mi sono arrivati anche dei messaggi, insomma, anche due parole su quello che è successo anche a ridosso della nostra tribuna, ma ne parleremo dopo. Prima ci vogliamo concentrare invece sulle cose importanti che sono appunto il match. Parto proprio da te, Donatella. Allora, un peccato, abbiamo detto, poi sentiremo anche i due mister, Gabur e Tabbiani, e secondo me è indicativo sentire sia quello che dice mister Gabur che quello che dice Luca Tabbiani, l'abbiamo ripreso apposta a qualche secondo anche di Tabbiani, per, insomma, spiegare un po' che tipo di partita poi abbiamo visto, perché, insomma, questa è una partita che il Rimini avrebbe dovuto stravincere e invece alla fine l'ha persa. Non sembrava vero a Tabbiani di aver vinto quella partita, cioè mi ha dato proprio quella sensazione quando ha parlato con noi in sala stampa e in effetti è stato così. Forse, anzi, direi quasi sicuramente la miglior partita di quest'anno del Rimini, quello di Fiorensuola, ma non è bastato, evidentemente non è bastato, perché quando hai così tante occasioni devi cercare di concretizzare di più e il Rimini l'ha fatto poco pur producendo tanto e un gol l'aveva fatto, perché c'è anche da dire questo, un gol l'aveva fatto passando in vantaggio, poi troppo morbido in certe situazioni e devo dire che il Fiorensuola ne ha approfittato benissimo di quelle due occasioni che ha avuto, perché per il resto ricordo soltanto qualche tiro da lontano, ma nemmeno eccessivamente pericoloso. Le occasioni, questo Fiorensuola che fin qui ha stupito, quel sabato lì contro Rimini non ne ha create tante, però dei limiti ci sono, evidentemente quando perdi una partita del genere, dei limiti ci sono, lo dicevamo poi nei nostri lunghi dopo partita di ritorno verso Rimini, Roberto, che probabilmente con Limulese avevamo visto uno dei peggiori Rimini della stagione, eppure il Rimini ha vinto e con il Fiorensuola probabilmente è stato il migliore e non ha raccolto niente. E' il bello e il brutto del calcio e c'è da dire che mi auguro che questa sia una strada di ripartenza, sulla quale ripartire. Sarà contento Cesare? Per il ritorno, dici, della difesa 4, per il ritorno al 4-3-3 Cesare, glielo chiediamo subito. Anche se il mister ci aveva detto proprio qui, in collegamento... Che non sarà più successo. Invece è successo... Le ha detto mai più! Mai più! È una sconfitta che brucia molto, fa parte del gioco, il Rimini ha giocato bene, è stato avvantaggiato da un terreno di gioco che favoriva la prestanza fisica della squadra di Gaburro e penalizzava una squadra che è un po' leggera e corre molto e fa viaggiare molto il pallone, come il Fiorenzuola che fin qui ha espresso, a detta di tanti, fosse un gioco fra i migliori visti in questo campionato. Non sabato però? No, sabato l'ho visto fare una partita completamente difensiva, è stata abbastanza ordinata nella fase difensiva, pur giocando con 6 under. Certo, questo va sottolineato. Questo va detto, però il risultato ai punti doveva premiare il Rimini, che però se non vince è perché qualche cosa, come dicevi tu prima, in qualche cosa manca, perché poi se tu concedi dei calci piazzati sui quali sei disattento, il gol è abbastanza probabile che lo prendi. E già. E nelle due occasioni le disattenzioni sono state piuttosto pesanti. Credo che altrettante disattenzioni ci siano state nell'origine di queste azioni che hanno portato al calcio di punizione e al calcio d'angolo, di una squadra che alla fine, va detto, ha cercato di vincere. A me proprio negli ultimi 20 minuti, cioè dal 20-25esimo del secondo tempo, il Rimini ha proprio deciso che pensava di poterla vincere con la partita e di volerla vincere. Quindi è stato molto più continuo. Alcuni giocatori erano veramente estremati alla fine, Piscitella, Rossetti e anche altri, perché il Rimini ha peso molto perché voleva vincere la partita. Io spero che non lasci delle scorie a questa sconfitta, perché è una sconfitta molto bruciante, molto pesante. Perché dar seguito con una vittoria, quella con Limola, avrebbe significato molto, anche in autostima, in fiducia, in ripartenza. Rimini ha bisogno di recuperare dei giocatori e se mentre li recupera fa anche dei risultati, questo li aiuta a tenersi su. Vediamo perché adesso la prossima partita sarà un'altra brutta gatta da pelare. E già con l'Ancona sabato e senza Santini, che rendi fide, è stato ammonito e quindi salterà la prossima. Rientra nell'elenco delle cose da mettere a posto, perché non si può continuare tanto più con un organico che in attacco soffre di mancanza di giocatori, finire squalificati per somme di munizione. Capisco, però anche questa è una... No, è vero, anche se il cartellino, secondo me a Santini, forse l'arbitro è potuto, visto che erano anche nei primi minuti, non era così, secondo me, un intervento da sanzionare necessariamente con il cartellino. Però quest'anno va così, insomma, il metro è quello e bisogna adattarsi. Sono d'accordo con te, Cesare, che bisogna cercare appunto di prendere meno ammunizioni e quindi meno squalifiche. Baio, perdere una partita così, dopo una prestazione così, dove Rimini ha tratti, ha dominato in maniera quasi imbarazzante, tenuto conto dell'avversario che, l'abbiamo detto, insomma, è un avversario che è considerato giustamente la rivelazione di questa prima parte del campionato, che ha tra l'altro anche la migliore difesa, perché ha subito dieci gol. Quindi, insomma, e Rimini però è riuscito a metterlo sotto per lunghi tratti. E poi però non portarla a casa, cioè, è una cosa che ti preoccupa? Oppure dici, insomma, è un incidente, tra virgolette, di percorso, ma la strada è quella giusta? No, mi preoccupa molto, come giustamente ha accennato Cesare, il contraccolpo che può dare psicologicamente una partita come questa, dove ovviamente poi finisci per domandarti dove hai sbagliato, ok? Perché in ogni caso siamo qua a raccontarci della migliore prestazione del Rimini, che porta a casa zero punti, e il calcio non è una scienza esatta, però ovviamente hai fatto degli errori se la cosa poi finisce così. Io direi la migliore partita è in fase di costruzione, perché poi dopo gli errori difensivi rimangono, perché sono due errori anche gravi. Perché se andiamo a vedere poi in realtà gli interventi di Battagliola, credo nel primo tempo una buona parata su un tiro a giro di Santini, ma poc'altro. Quindi proprio la difficoltà del Rimini è stata quella anche di inquadrare la porta, spesso di eccedere con il possesso all'ultimo, cioè perdere quell'attimo, perché comunque il gol è sempre una sequenza di attimi decisivi. E purtroppo a un certo punto ho cominciato proprio a sentire il peso del rischio che stavamo correndo, perché sono state tante, tantissime le occasioni in cui arrivavi molto facilmente alla loro area, al tiro o comunque costruirevi azioni pericolose, ma non c'era mai il guizzo. E allora noi che qualche partita l'abbiamo vista sappiamo bene che quella legge del contrapasso è spesso puntuale e maledetta. Eh già, è proprio così. Allora andiamo a sentire tra poco proprio i due mister, quindi l'incredulità, se vogliamo, sia di Gaburro che di Tabbiani. L'esito di questa partita, prima però andiamo da Bike Service. Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca, centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. E allora, una partita che ha lasciato senza parole letteralmente mister Gaburro. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Non so cosa dire. È l'unica volta in questi anni che sono qua che non so cosa dire. Cioè nel senso, mi viene da dire che non si può perdere una partita così, non si deve perdere una partita così. Mi viene da dire che il calcio è strano perché penso che sia la partita in cui abbiamo fatto meglio dall'inizio dell'anno. A livello difensivo penso che abbiamo concesso quasi nulla. Forse se pareggiavamo venivamo a dire che era assurdo pareggiare. E stiamo parlando addirittura di una partita versa. Quindi è evidente che quando perdi c'è sempre qualcosa che non va. Noi dobbiamo analizzare bene quello che è stata la partita per capire cos'altro dobbiamo fare in più e meglio per poter vincere la partita. Di sicuro oggi nel complesso devo dire ai ragazzi che ha fatto una partita molto applicata, con la testa giusta, molto attenta. E quindi non sembra che stia parlando di una sconfitta. Eppure è così. Non so quante volte abbiamo calciato verso la loro porta. Dico verso la loro porta perché a volte siamo un po' goffi, un po' ingolfati, un po' quando calciamo. Non siamo forse ancora in un momento così spregiudicato dove magari vai un po' più sereno a calciare. E alle volte pensiamo un secondo in più in quelle situazioni lì. Però ce ne sono state talmente tante che diventa veramente difficile commentare il risultato del genere. Possiamo parlare anche di palline attive. Ma secondo me le palline attive sono sempre specchi un po' di come sta in quel momento lì. E la cosa che mi dà pensare è che in tutte e due le situazioni io da fuori ho chiamato molto la squadra nello stare reattiva perché la vedevo un po' piantata nel momento in cui partiva la palla su tutte e due le situazioni. Però non c'era motivo per non essere sul pezzo e per non essere reattivo in quel momento lì. Ecco Donatella, andiamo proprio su due elementi di questo dopogara che abbiamo ripreso due giorni dopo proprio per questo. Allora, a parte l'incredulità per quanto è accaduto, però nell'analisi lucida, come di consueto, di mister Gaburro insomma ci sono due elementi che sono importanti. Allora, uno è il fatto che Rimini, pur avendo costruito tanto, spesso e volentieri, alla fine lo diceva anche Baio al momento di calciare insomma sempre qualcosa non ha funzionato per il meglio perché poi alla fine non è che il portiere avversario abbia dovuto fare chissà quali interventi per una partita come quella che abbiamo visto. L'altro elemento, e poi è stato evidente perché abbiamo rivisto anche le immagini del gol poi le rivedremo, sia nel primo che soprattutto nel secondo insomma io vedo una difesa totalmente piantata a terra con il giocatore avversario che è stato lasciato davvero troppo libero di poter impattare di testa da posizione favorevole e di trovare il gol del 2-1. Sono poi le due situazioni chiave della partita perché, come dicevamo, producendo così tanto devi finalizzare di più necessariamente anche se hai dei giocatori, adesso Sereni lo conosciamo un po' meno però Piscitella già lo conosciamo dalla passata stagione Piscitella è un giocatore a cui piace arrivare un po' in porta con il pallone non è uno che tira tanto e tanto facilmente quindi proprio un po' forse per caratteristiche Santini ci ha provato in un paio di occasioni ma non è che può fare tre gol tutte le domeniche insomma tutte le partite e poi è vero, adesso uso un termine tu hai detto piantate secondo me i giocatori del Rimini in quelle situazioni lì sono un po' tonti uso un termine per farmi capire non lo so, li vedo forse è meglio dire poco reattivi però sì, un po' più passabile dai, direi che tonti sembra quasi quasi offensivo diciamo poco reattivi dai non lo volevo dire in maniera offensiva eh no, per quello poco reattivi è più appropriato se vogliamo, dai eh, va bene, poco reattivi erano poco reattivi anche se tonti rende però rende perché secondo me tonti un po' rende sì, sì e in quei momenti della partita quando stai vincendo su un campo difficile dove in pochissimi sono riusciti a vincere non puoi permetterti di essere tonto cioè devi stare sveglio e non è la prima volta che succede quindi da quel punto di vista ci vuole probabilmente qualcosa di più però ci sono anche tanti lati positivi cioè adesso noi guardiamo tanto il risultato perché è il risultato che poi alla fine condiziona anche quello che pensiamo eh di una partita però è anche vero che forse la prima volta che io vedo i giocatori del Rimini arrivare quasi sempre primi sul pallone cioè io non quest'anno secondo me una difficoltà grossa era che molto spesso i giocatori del Rimini arrivavano secondi in quella partita sono sempre arrivate prime e non possiamo pensare che questo non sia un segnale positivo cioè io non la vedo come una partita che può lasciare delle scorie deve essere una partita che ti fa capire che quel genere di gare tu le puoi giocare e devi farlo con tutti gli avversari Bene allora prima di andare a sentire anche Luca Tabbiani e lo vedrete vi invito proprio a vedere anche proprio l'espressione anche le parole anche il linguaggio del corpo e quindi insomma si capisce che anche lui è quasi senza parole per altri motivi ovviamente allora l'ho detto in apertura spendiamo proprio giusto due parole sul trattamento che purtroppo abbiamo ricevuto durante la nostra radiocronaca in diretta su Radio Icaro perché un piccolo gruppo di una decina di persone Baio no? penso possiamo parlare non di più quindi non voglio generalizzare e tirare diciamo dire qualcosa di negativo su una tifoseria che per il resto invece è una tifoseria corretta e tutto quanto però questo gruppetto di tifosi che era proprio sotto la nostra postazione ha inveito anche offeso diciamo anche con offese anche abbastanza pesanti con anche gesti anche insomma un segno così anche a Donatella poco eleganti poco eleganti insomma noi siamo negli stadi seguiamo il Rimini chiaramente facciamo la cronaca per una radio riminese e quindi è una cronaca filo Rimini una cronaca che cerca di essere obiettiva allora se non è obiettivo dire che il Rimini questa partita sul piano del gioco l'ha dominata e che e tra poco vedremo l'episodio da Moviola e l'ha confermato anche nel dopogara del carro ha subito un contatto in area da calcio di rigore se questo vuol dire essere faziosi allora per contro cioè vuol dire anche non essere in grado di leggere una partita che invece secondo me ha questa lettura perché Rimini ha dominato sul piano del gioco contro una forte Fiorenzuola molto giovane e forte e però noi abbiamo raccontato quello che abbiamo visto e l'abbiamo fatto perché siamo lì per lavoro anche per piacere ma anche soprattutto per lavoro quindi bisogna rispettare chi sta lavorando in quel momento quindi insomma chi si è comportato in questo modo ha palesato una grande maleducazione punto non dedichiamo più altro tempo e per far capire come poi non abbiamo visto una partita in maniera molto diversa da Tabbiani invito ad andare a leggere tra le righe di quello che dice Tabbiani che chiaramente non può venire in sala stampa e dire il Rimini ci ha dominato e abbiamo vinto per fortuna ma lo deve dire in altri termini da tecnico intelligente qual è insomma si capisce bene il concetto sentiamo Tabbiani ma abbiamo fatto una partita Gagliarda contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà probabilmente diciamo a livello di gioco di conduzione della partita il Rimini sicuramente meritava qualcosa in più però io guardo la mia squadra e dico che hanno fatto una partita veramente importante sotto l'aspetto caratteriale abbiamo tanti giovani in campo in un campo pesante che magari non si addice un po' alle nostre caratteristiche fisicamente Rimini era veramente prestante e veder lottare i miei ragazzi come hanno lottato per 90 minuti in tutte le difficoltà penso che sia un giusto premio per l'abnegazione che hanno messo poi ripeto c'è da fare come a Rimini perché è una squadra veramente forte e ci ha messo in grossa difficoltà con sospiro finale perché è giusto per far capire insomma che Tabbiani la partita l'ha vista immagino abbastanza similmente a noi da persona insomma che chiaramente vive di calcio ed è intelligente e anche onesta nel commentare una partita commenti da casa e dei nostri amici manteniamo la categoria così il prossimo anno giocheremo contro la Juventus forza Rimini siamo partiti molto bene andiamo con qualche altro messaggio una sconfitta così e una doccia gelata su tutti gli entusiasmi che si stavano formando dietro questa squadra avrà ripercussioni su tutti gli incassi del girone di ritorno addirittura perché ci consegna un campionato anonimo anche andare pre-off da decima sarebbe come non farli ma le sconfitte con la Cararesi e quella assurda con il Vicenza non ci hanno insegnato niente? Allora Cesare allora io adesso rispetto chiaramente il parare di tutti ma io non penso che proprio questa prestazione dove Rimini ha perso lo diciamo anche cioè poi con le sue colpe ma se vogliamo immeritatamente non penso che sia questa la partita che faccia dire basta adesso il Rimini non lo vado più a vedere oppure che fare un campionato per un anno promossa da comunque un posto nei playoff non sia un campionato dignitoso per una squadra che comunque l'anno scorso era in Serie D non vorrei che alla fine il risultato possa trascinare tutto nel brutto che poi dopo una partita del genere secondo me non c'è perché c'è anche tanto buono è il commento di chi è figlio del risultato perché se io mi metto nei panni di un tifoso che si disamora per una cosa negativa non torno allo stadio dopo Rimini-Molese non dopo Fiorenzo-La Rimini perché ho una sensazione diversa cioè noi contro Rimini-Molese che è una squadra forse quella che in maggiore difficoltà in questo campionato abbiamo vinto ma insomma Rimini-Molese ci ha creato molti problemi però se tu guardi il risultato e da quello ti fai condizionare ci sta un commento di questo genere andiamo ogni tanto bisognerebbe farli gol su calcio d'angolo non solo prenderli non mi ricordo quest'anno ma è un'azione pericolosa su calcio d'angolo sabato è stata l'apoteosi sarà il caso di lavorarci sempre forza Bianco-Rossi da Luca Distinti in effetti 12 calci d'angolo battuti da Rimini due battuti dal Fiorenzuola più quel calcio di punizione che era quasi un corner corto però in due delle tre occasioni il Fiorenzuola ha fatto gol Baio e Rimini invece ne ha avuti 12 e in quelle 12 occasioni mai si è reso pericoloso mai guarda ne abbiamo battuti anche diversi di fila ma mi ricordo le parole di mister Gaburro qualche settimana fa quando diceva proprio che gli sembra che la sua squadra e questa è la sensazione che adesso dà anche a me perché sono condizionato da queste parole ma anche da quello che vedo che non lo viva come momento cruciale come momento che può essere determinante se noi pensiamo al volume di gioco prodotto da Rimini in questi 95 minuti di gara a Fiorenzuola e il fatto che hai perso per due palle inattive c'è da fare di conto su quanto pesino sempre di più nel calcio moderno queste situazioni sia quando attacchi che quando ti devi si si nel bene ma allora poi voglio convolgere anche Donatella però voglio entrare anche con rivedendo poi le immagini perché insomma visto che ci sono è giusto anche andare a rivedere come poi Rimini ha subito il gol e anche la pagina della Moviola allora direi di andare da Ruggeri e poi torniamo con la Moviola con i gol subiti e così ne parliamo una storia cominciata nel 1937 con una piccola bottega di biciclette affacciata sul corso d'Augusto oggi la nostra azienda è cresciuta assieme alla città con due sedi sulla nuova circonvalazione dove scegliere un'auto nuova Citroen o Kia o un'auto usata o seminuova un reparto è stato dedicato alla gamma premium auto di prestigio recenti e a bassa percorrenza quello che è rimasto intatto è lo spirito antico basato sul rapporto personale e sul piacere di essere utili Ruggeri muove Rimini da 80 anni eccoci insieme per aprire la pagina della Moviola come promesso il direttore di gara Roberto Lovison di Padova andiamo a vedere il primo episodio che è proprio il più contestato perché siamo al 22esimo del primo tempo Pasa per Santini che subisce fallo l'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio anche se forse poi dopo ci poteva stare un giallo dopo ad azione finita però Delcaro allarga per Sereni che lo serve in area il centrocampista come rivedremo adesso sposta il pallone tocca il pallone e poi viene agganciato dal portiere avversario lo rivediamo anche ingrandendo guardate tocca il pallone viene agganciato dal portiere e qui insomma la reazione anche di Sereni è abbastanza eloquente perché Sereni è il giocatore più vicino il tocco l'ha visto se reagisce così Delcaro ci ha confermato nel dopo partita di essere stato toccato dal portiere ci ha anche detto una cosa anche abbastanza diciamo che insomma è discutibile del direttore di gara se così è stato il dialogo che l'arbitro ha detto io l'avrei anche dato ma siccome tu hai lasciato la gamba lì allora non l'ho dato però se l'arbitro vede il contatto l'arbitro il rigoro lo deve dare però questo è quello che ci ha riferito poi Delcaro nel dopogara non sappiamo se sia stata proprio questa la frase dell'arbitro che vediamo però far segno di no con la mano quindi per lui quello comunque non è un calcio di rigore allora vi chiedo parto da Cesare è rigore? Allora da qui non si vede se il tocco c'è diciamo che la dinamica lo lascia immaginare da qui siamo un po' lontani poi c'è un giocatore del Fiorezzola che proprio copre il contatto possibile però guarda la reazione di Sereni cioè la reazione di Sereni è la reazione di un giocatore ed è lì vicino che il tocco l'ha visto altrimenti Sereni non scatta così cioè perché capisco che noi giocatori siano sempre pronti ad alzare la mano però la reazione di Sereni immediata distinto è quella di uno che il tocco lo ha visto e lo stesso Delcaro ci ha detto di essere stato toccato poi a meno che poi dopo Delcaro non sia il re dei bugiardi però e così ci ha raccontato poi in sala stampa dalla dinamica e anche dalla caduta di Delcaro ci sta l'arbitro ha sbagliato tutto perché se o è rigore o è simulazione niente non è giusto e se è vero che gli ha dato la giustificazione di questo tipo è un secondo errore perché lasciare lì il piede non è fallo lasciare lì il piede non è una condotta scorretta lasciare lì il piede è un modo per cercare un fallo e se tu vedi il contatto poi dopo il rigore lo devi fischiare quindi è un clamoroso errore infatti quello che ha riferito però sulle dichiarazioni quelle riportate non possiamo lo potevo anche dare perché ti ha preso ma tu hai lasciato la gamba lì no questo è doppio errore ecco doppio errore anche perché se no come dice Cesare se no mi fischi simulazione e mi ammonisci è troppo plateare il fallo o è simulazione o è rigore certo sì sono d'accordo una volta tanto la prima sensazione che ho avuto dal vivo è confermata dalle immagini e io sono stato il primo a rivederlo nel monitor secondo me lo prende col piede sinistro il portiere Donatella tu come l'hai visto? eri visto perché so che anche te io non vedo io non da qui non vedo a parte che non è Sereni ma è Piscitella che protesta e quindi tu sei cieco quanto l'arbitro ah scusami hai ragione perché Sereni ha fatto il cross Piscitella sì sì hai ragione è abbattuta chiaramente no no ma è fatto bene perché era Piscitella in effetti è fatto bene a correggermi era Piscitella ma per forza sei come il direttore di gara lì che non è che vede tutto subito no a parte gli scherzi la sensazione che io da qui non vedo anche rivedendolo rivedendo cento volte non lo vedo però la sensazione che ho avuto live dal vivo è che quello fosse un rigore abbastanza netto e poi non ho motivo di non credere a Delcarro che dice sono stato toccato cioè poi è chiaro che un giocatore che si trova in quella situazione lì va a cercare il rigore ed il carro cerca il rigore ma questo mi sembra evidente Donatella guardiamo anche la reazione di Piscitella giustamente di Piscitella cioè la reazione di Piscitella è immediata è di un giocatore che il contatto lo ha visto e lui è lì e quindi lui e va poi dall'arbitro va dopo nell'immagine quando vediamo l'immagine completa va dall'arbitro a chiedere gli spiegazioni quindi insomma la reazione di Piscitella secondo me è la reazione genuina di un giocatore che il contatto l'ha visto allora Piscitella ha visto il contatto Delcarro ce l'ha confermato l'arbitro avrebbe confermato anche lui secondo quanto riportato da Delcarro cioè questo è rigore punto cioè secondo me qui non si discute e sono d'accordo con Cesare se non è rigore simulazione questo sicuramente se non è rigore simulazione perché vuol dire che Delcarro si è platealmente buttato sì perché lui che tocca la palla lo vediamo tutti lui la palla la sposta lui la palla la sposta per me questo è rigore per me dopo io continuo la sensazione che ho avuto dal vivo nel rivedere mille volte le immagini mi viene confermata dal fatto che questo secondo me è rigore perché per me il tocco c'è la reazione di Piscitella lo conferma quanto ci ha detto Delcarro lo conferma perché poi dopo in sala stampa uno può anche essere anche onesto nel dire no non mi ha toccato così perché tanto ormai è andata però se uno dice mi ha toccato e io sono d'accordo con Baio perché probabilmente il contatto è stato con la gamba più che con il braccio poi chiaramente passa proprio il giocatore lì davanti però la mia sensazione è che questo sia rigore quindi un rigore Rimini mancava nel primo tempo andiamo al quarto della ripresa perché sempre Delcarro il protagonista in un'altra azione un gol che gli è stato annullato c'è Piscitella per Pasa tiro che si trasforma in un assist per Delcarro che mette in rete con grande prontezza devo dire è qui giusto giusto non ci stiamo neanche a discutere tanto perché è nettamente alle spalle di tutti gli avversari Delcarro e quindi questo è un gol che è stato giustamente non convalidato e se vogliamo anche questo è un errore perché se Delcarro segue come sta facendo l'azione cioè deve anche rendersi conto dove si trova cioè lì è una questione di centimetri però se avesse fatto quel passo indietro non sarebbe arrivato su questo tiro sbagliato comunque ha il vantaggio laterale cioè comunque il giocatore più vicino a lui è più lontano di lui dal pallone dalla traiettoria del pallone sì però questo è comunque tanto vale rischiare di farsi anticipare piuttosto che invalidarlo certo e però lì per lì l'azione è talmente veloce si fa fatica insomma uno magari non pensa neanche che Pasa possa andare a tirare di prima intenzione necessariamente è già lì e fa fatica insomma però questo è giusto è stato giusto non convalidare questo gol andiamo al ventunesimo perché c'è una rivessa laterale per la squadra di casa Sartore viene affrontato così Tato Fanari perché è importante questa punizione perché questa è la punizione da cui nascerà il gol dell'uno a uno allora andiamo a vedere abbiamo anche dopo ingrandito l'immagine oltre ad aver rallentata per cercare di capire se praticamente ci siano meno gli estremi per il fallo io in cronaca diretta ho detto che secondo me ci stava perché comunque l'intervento di Tato Fanari mi è sembrato sull'avversario però volevo sentire anche la vostra opinione perché chiaramente se Tato Fanari avesse toccato invece il pallone a quel punto sarebbe stato un angolo adesso non sarebbe cambiato molto perché magari poi sarebbe arrivato il gol dall'angolo però sicuramente è uno schema diverso rispetto a quello che poi è stato adottato invece su quel calcio di punizione cosa mi dite? Secondo me la palla la tocca a Tato Fanari però questo non lo salva dall'aver commesso un fallo è un'entrata scomposta che doveva risparmiarsi sinceramente sì anche secondo me di fatti anche in cronaca ho detto subito che è stata secondo me un'ingenuità da parte di Tato Fanari perché in ogni caso quell'intervento secondo me sarebbe stato da evitare e secondo me può essere sanzionabile anche se prende anche il pallone oltre alla gamba perché comunque la gamba è lì dopo non so Donatella volevo sentire se sei riuscita a vederlo o rivederlo per me è fallo questo è fallo Baio? sì perché lo prende anche con la gamba di richiamo alla sinistra è chiaro che lì se ti senti di essere in vantaggio provi a metterla in fallo laterale o se no provi ad accompagnarlo perché tanto avrebbe potuto accompagnarlo possa aver pensato possa aver cercato l'anticipo perché ha avuto paura che lui crossasse subito cioè lì lo devi provare ad accompagnare però insomma secondo tutti noi è fallo insomma quindi è giusto assegnare questo calcio di punizione ecco adesso andiamo a vedere i gol perché poi dopo andiamo anche in sequenza rispetto a quest'ultima azione andiamo a vedere il gol dell'1-1 realizzato da Stronati perché lo stesso Sartore batte questo calcio di punizione c'è Potop che va alla deviazione devo dire piuttosto libero già qui c'è il primo errore perché nessuno segue questo taglio guardate io non sono molto favorevole alla difesa a zona sui calci piazzati e questo me lo conferma perché anche in questo caso tutti fermi comunque c'è poca reattività anche in questo caso Potop può colpire di testa e poi per Stronati insomma è un gioco da ragazzi ribadire in rete perché il pallone rimane lì di fatto sulla linea di porta ma sei ormai quasi tutti marcano a zona ma questo non vuol dire che sia uno schema più penalizzante rispetto a un altro perché come lo interpreti poi fa la differenza certo chi marca a zona in gergo qualcuno dice devi marcare la palla cioè devi andare ad aggredire la palla perché se tu stai tonto come dice Donatella termine tecnico che utilizzeremo da adesso in poi per tutto il resto della stagione se tu stai tonto e aspetti passivamente che arrivino gli altri loro arrivano prima e quindi se invece i due cioè Santini e Pasa che erano sul primo palo invece di aspettare avessero aggredito quel pallone avrebbero contrastato l'avversario quindi è questo l'errore di chi marca a zona in questo modo allo stesso modo chi marca a uomo finisce spesso nella trappola dei blocchi per cui anche quella ha un però anche qui vedo poca reattività cioè è soprattutto una cosa cioè Santini e Pasa non sono sul primo palo sono sulla linea dell'area piccola cioè lì perché non c'è un uomo sul primo palo? perché ha messo la barriera infatti io quando l'ho visto la prima volta ho detto perché mette la barriera che due uomini in barriera che è quasi un calcio d'angolo l'uomo sul primo palo ha un vantaggio rispetto agli altri che guarda dall'altra parte perché se è vero come è vero che sono un po' tutti di spalle cioè uno che guarda nell'altra direzione chi arriva secondo me ci deve essere quindi anche un piazzamento che non ti ha convinto troppo no io se fosse portiere uno sul palo portiere te uno sul palo l'avresti messo lì avresti tenuto due in barriera l'avresti messo tutte e tre ma lì ci stava la barriera due però come dice Baio secondo me soprattutto la porta è grande e quindi il portiere che stava dietro la metà avere un uomo sul primo palo una ribattuta come quella avrebbe avuto l'occasione per spazzarla via quindi ti dici comunque ci sta barriera due giusto però anche un uomo sul primo palo sì lì secondo me ci doveva essere qualcuno pronto per la ribattuta anche perché poi comunque dove erano posizionati i giocatori era inutile ugualmente quindi alla fine è meglio spendere uno sul palo non erano inutili erano utili se avessero aggredito aggredito però sono stati tonti come dice grazie l'ho preso rende l'idea voi dite adesso dai non è offensivo chiaramente l'abbiamo spiegato abbiamo spiegato e spiegandolo poi possiamo permetterci di utilizzarlo come termine sono stati a tonti ho questa licenza posso usare il tonti io senza che nessuno soffenda va bene allora possiamo vedere anche il secondo gol di Frisone per vedere se sono stati tonti anche in occasione del secondo gol no sul secondo secondo me meno tonti sul primo più tonti più tonti andiamo a vedere il secondo dalla bandierina Morello e Frisone che è difensore centrale stacca di testa piuttosto indisturbato devo dire la verità perché io non lo so a me forse fa arrabbiare più il secondo del primo però dopo una questione di è una questione di gusti a me però il secondo a due minuti dal novantesimo cioè vedere comunque una difesa così statica in occasione di un calcio d'angolo a me comunque un pochettino il nervoso lo fa venire perché cioè qui non c'è nessuno che nessuno che prende in consegna nessuno nessuno che aggredisca nessuno rimangono ognuno lì nella loro zona però lì di testa ci arriva l'altro che arriva in corsa e alla fine c'è praticamente la sensazione tra l'altro è che se non l'avesse colpito lui l'avrebbe colpito un altro giocatore del Fiorenzuola diciamo che quelli neri saltano in tanti quelli rossi sono tonti è una sintesi però insomma a me questo qui non lo so Cesare a me quasi fa più arrabbiare il secondo del primo sì questo è ancora moltiplicato la passività che dicevamo prima il Rimini ha in area dieci giocatori di movimento cioè tutti e undici sono in area del Rimini e salta solo Panelli gli altri si fanno tutti superare cioè sulla palla arrivano quattro di loro e c'è solo Panelli e i Rimini sono undici nell'area di rigore è evidente che come dire hanno guarda anche i giocatori che si che si inseriscono dal limite dell'area questi tre che arrivano arrivano tutti là nella mischia e nessuno li segue e di fatto per quello dico se non l'avesse colpito lui l'avrebbe colpito probabilmente un altro giocatore in maianera andavi a costruire un assembramento di giocatori loro intorno al pallone dove cascava uno l'altro lo avrebbe colpito ma sembra una testuccine romana sai che attaccavano a quadrato però io devo dire insomma che qui a me questo gol non è piaciuto affatto insomma mettiamola così allora ci chiedono anche per l'attacco buonasera Gabbianelli o Mencagli qualcuno rientra per sabato allora Gabbianelli e Dallievi dovrebbero essere due giocatori che diciamo dovrebbero essere in grado di rientrare sabato Mencagli no ci vorranno ancora una ventina di giorni ha detto proprio alla vigilia del match quindi venerdì scorso mister Gaburro allora andiamo da Ottica Ferri ricordando che anche quest'anno premeremo il miglior giovane biancorosso della prima squadra a due passi da Rimini a Ospedaletto di Coriano puoi trovare Lottica Ferri che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze Lottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa ti aspettiamo e forza Rimini Eccoci nuovamente insieme allora dobbiamo votare ancora il miglior biancorosso in campo parto da Donatella dubbi questa settimana direi Pasa Pasa Cesare Baio per me io voglio dare un incoraggiamento ad Averi Autore dell'Assist tra l'altro dell'Assist è un po' troppo ignorato da Piscitella nelle sovrapposizioni Piscitella è un po' troppo egoista e alla lunga si è stancato molto avrebbe dovuto secondo me premiarlo più spesso nelle incursioni delle sovrapposizioni di Averi che secondo me è molto bene che stia crescendo Io ho votato Piscitella Piscitella Allora andiamo a vedere terzo posto per Pasa con 11% di voti 25% di voti per Andrea Delcarro autore del gol del momentaneo avvantaggio biancorosso e 39% di voti proprio per Kevin Averi che quindi viene premiato anche dei nostri tifosi e in effetti ha fatto una buona prova per quanto riguarda Piscitella e insieme a Tanasa con il 5% di voti per appunto quanto riguarda questa nostra tornata di questa settimana andiamo a vedere anche un po' il quadro dei risultati per vedere un po' quello che è successo così diamo anche un'occhiata alla classifica visto che prima ne parlavamo anche con un amico insomma abbiamo visto 3-0 dell'Ancona sull'Alessandria Aquino-Montevarchi-Pontedera 1-2 Carrarese-Torres 0-1 Gubbio-Battesena 2-0 Immolese-Vispesalo 0-0 Cesena-Sandonato-Tavarnelle 3-2 Fermana-Reggiana 0-3 Olbiere-Canatese 1-1 Virtusentella-Lucchese 1-1 con la Reggiana che è sempre in vetta con 36 punti il Gubbio 35 poi 31 per Cesena e Fiorenzuola 30 per Pontedera Virtusentella 29 per la Carrarese 28 per l'Ancona che ricordiamo sabato sarà Romeo Neri 26 per il Siena e 25 per il Rimini insieme alla Lucchese Rimini che è proprio lì alle soglie della zona playoff occupa l'ultimo posto disponibile in coabitazione con la Lucchese però premiato in questo momento dalla classifica Cesare Sì direi che esce di scena il Siena secondo me perché è troppo discontinuo come squadra ormai sta tardando un po' adesso il Gubbio sinceramente sta dimostrando di valere quel livello di classifica certo che la Torres che ha vinto fuori casa è un risultato importante Lentella l'ha racimolata al novantesimo perché stava perdendo in casa con la Lucchese in maniera piuttosto pesante e io ho visto abbastanza del secondo tempo di Cesena San Donato Travernelle e Cesena ha sofferto le pene dell'inferno nel secondo tempo perché la partita sembrava chiudere sul 3-1 e lo dico perché San Donato Travernelle verrà a breve a Rimini e non è quella squadra che abbiamo immaginato per tutto per gran parte del giorno è andato una squadra veramente scorbutica sarà l'ultima del 2022 per i Biancorossi con il San Donato Travernelle prima gara di ritorno bene allora siamo alla vignetta di Baio che ci possiamo andare a gustare insieme abbiamo messo il Fiorenzola all'angolo e loro hanno vinto da lì proprio dall'angolo come al solito sempre perfetta la vignetta nel nostro Baio grazie a Donatella Filippi posso dire due notizie in chiusura una è che è ripreso anche Zaccagno oggi da allenarsi con una maschera protettiva e questa mi sembra una buona notizia molto bene ottima notizia ecco la seconda che Oscar Brevi ex Rimini il nuovo allenatore della Vispesaro benissimo grazie Donatella per queste notizie addirittura d'arrivo grazie buona serata lunedì prossimo ovviamente noi ci vedremo prima per il match che seguiremo in diretta sabato ovviamente su Radio Icaro Rimini Ancona a partire dalle 17.30 grazie a Cesare Trevisani buonasera a tutti grazie al nostro Baio grazie a voi buonasera e adesso Ilaria devo salutare anche te grazie mille buonasera a voi benissimo tra poco la nostra serata basket purtroppo dobbiamo parlare anche in quel caso di una sconfitta adesso pubblicità e poi spazio a Riviera Banca basket Rimini quindi restate con noi grazie a tutti grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti